Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di incontri karmici particolari. Quali sono gli incontri karmici particolari? Sono incontri con delle persone che dal primo momento in cui si incontrano si trovano familiari, si trova come se ci fosse una conoscenza da un tempo maggiore. E questo cosa significa? Significa che queste persone hanno quella che viene chiamata un'affinità karmica. Un'affinità karmica cosa vuol dire? Che c'è stato un incontro, ci sono stati anche diversi incontri, proprio un incontro d'anima. L'anima è quella parte molto sottile che trasmigra, diciamo così, di vita in vita, prende nuovi corpi e si creano una sorta di fiamma gemella. La fiamma gemella cos'è? È un incontro particolare a livello animico tra due corpi molto sottili, tra due anime fondamentalmente, che si rincorrono nello spazio-tempo e si conoscono benissimo. Questo per quel motivo. Le anime gemelle favoriscono, le fiamme gemelle, il cui simbolo è un'unica fiamma che si divide in due ramificazioni, sono, diciamo, strettamente connesse perché si aiutano vicendevolmente. Nei momenti dello spazio-tempo l'aiuto per una crescita emotiva, una crescita spirituale. Come dire, quando c'è bisogno la fiamma gemella appare per dare forza, dare forza e assieme avere un meccanismo di crescita, un meccanismo di crescita da un punto di vista spirituale perché il nostro compito nel mondo delle forme è quello di acquisire una trasformazione anteriore che ci consenta di trascendere il mondo delle forme stesso, ci consenta di andare oltre, ci consenta di raggiungere dei livelli più elevati di consapevolezza. e per fare questo abbiamo spesso bisogno di un supporto, un mutuo supporto. Spesso tra le fiamme gemelle nascono anche delle relazioni sentimentali, delle relazioni sentimentali che sono basate soprattutto però su un'affinità elettiva e ci può essere una... e sono relazioni che durano nel tempo, direi che durano nello spazio-tempo perché diciamo gli incontri non sono sicuramente legati ad un'unica vita ma si rimanifestano in varie forme, in varie situazioni, in varie condizioni e noi ci rendiamo conto che abbiamo un incontro d'anime, quindi un incontro karmico particolare quando incontrando una persona riscontriamo una grande familiarità come se con questa persona una familiarità positiva avessimo trascorso altri eventi, altri fatti, altre situazioni e questo capita perché nelle nostre memorie più profonde è seppellito tutto, diciamo così sono codificati tutte le situazioni per cui per questo motivo noi abbiamo questa, diciamo, questa familiarità e questa familiarità ci permette di riconoscere dentro noi stessi l'altra persona ecco perché la fiamma gemella ti fa un po' da specchio tu riesci a vedere te stesso, te stessa nell'altro ed è per questo che c'è questa familiarità e questa sintonia molto profonda bene, per questo video è tutto iscrivetevi al canale e mettete un like ciao